già complicata di per sé perché il valore dell'avversario, comunque venivamo da una settimana abbastanza complicata quindi aspettarsi molto di più era difficile, sicuramente mi aspettavo dalla squadra un atteggiamento un po' più combattivo un paio di quarti abbiamo raggiunto il bonus, il quarto fallo, solo negli ultimi secondi quindi siamo entrati in campo con poca energia, la differenza tecnica c'è e ci può stare però l'atteggiamento remissivo, scarico non giustifica il fatto che abbiamo lavorato in settimana solo in 8 o 9 giocatori che è una cosa complicata però le complicazioni oggi non sono state solo tecniche, sono state proprio di una squadra poco cattiva non perché avremmo potuto vincere però sicuramente avremmo potuto fare una figura più bella giocando con uno spirito un po' più aggressivo invece alle prime difficoltà abbiamo mollato e ripeto non è che abbiamo mollato tecnicamente abbiamo mollato soprattutto a livello di intensità, di atteggiamento, di energia a livello di energia